Jingle bell, jingle bell, ma perché sto cantando le canzoni di Natale? Buongiorno signore e signori e ben ritrovati nel Fortnite Mers 2022 Guardate la lobby, è super oscuro e infatti l'aggiornamento più terribile e spaventoso dell'anno è arrivato su Fortnite E oggi ti dirò tutte le ricompense gratis Tu mi raccomando iscriviti ora al canale, quindi premi subito il tasto rosso iscriviti E se vuoi fare il provino per il mio team, inserisci nel negozio oggetti L'unico, solo ed inimitabile, codice creatore, Gio trattino alto X97, tutto maiuscolo Proprio come puoi vedere qui accanto a me Scusatemi, dall'alto mi sembra un po' più oscura la mappa Forse riesco ad intravedere un po' di nebbia che mi mette tanta tanta paura Adesso sono andato all'albero della realtà e come vedete i colori sono veramente quelli di Halloween Ma parliamo di questo aggiornamento, quali novità ci sono Prima di tutto troveremo dei jumpscares in giro per la mappa Oh, guardate, guardate cosa c'è, cosa vuol dire sta cosa Toots, 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 non so se lo sentite Ma c'è un lupa E stanno ululando, io ho tanta paura dei lupi Mamma, come vedete sto utilizzando la Ghoul Trooper con una zucca che si illumina Perché fa tanta paura, guardate un po', l'atmosfera è oscura E da un momento all'altro potrei essere aggredito da un pagliaccio assassino No, in realtà l'unico che mi può aggredire è il mio gattino lì dentro Ma quello è un altro discorso Comunque stiamo attenti perché in giro per la mappa, come vi dicevo, possiamo trovare delle cose che ci fanno spaventare Come dei clown che saltano fuori dal nulla Ed è iniziata la collaborazione con Hit, il pagliaccio assassino Chi è Hit? Beh, un clown terribile E hanno giunto in giro per la mappa dei tombini Dove questo pagliaccio esce dal tombino E sentirei tipo Ok, come l'ho fatto io sempre un cavallo Ma è tipo il pagliaccio che ti fa spaventare È una cosa molto brutta Obiettivo ovviamente è fare Victory Royale con almeno 10 kill E iscriviti al canale se anche tu adori Halloween Ma quali sono alcune ricompense gratis che possiamo riscattare La prima è sicuramente quella di Hit il clown Infatti arriverà gratis la skin di questo pagliaccio malefico Come la potremmo riscattare? Beh, il 26 ottobre ci sarà l'Hit Tournament Dove i primi tre classificati otterranno gratis un bundle Che contiene la skin del pagliaccio, il piccone ed un biglietto da visita Altrimenti tranquillo perché la puoi shoppare per 2500 V-Bucks Una seconda ricompensa la puoi ottenere se giochi da Playstation Lo vai nel Playstation Store E scrivi Fortrate P-Cakes e amico mio potreste ricevere il regalo La falce, sì Hai capito bene il piccone che tutti amiamo Non so come ma mi è sembrato di vedere Non un gatto ma un'ombra che correva Io non sto scherzando Oh cavolo, io ho molta paura a giocare qui Ma il problema è che non ci sono nemici Vabbè, io so perché Perché siccome c'è il giornamento di Halloween Hanno paura a stare qui Perché questa non è vero Questa è la zona di Halloween Un'altra cosa bellissima che hanno inserito Sono le galline zombie Ora, lo so che ti viene da ridere Ma io sono serio Cioè, i polli non sono più Sono dei zombie Hanno cambiato l'aspetto Altre due ricompense gratis Una la ottieni completando le Fortnite Mers Quest Le Daily Quest Sono anche facili Non richiedono troppo impegno Troppe difficoltà e troppo tempo Quindi, se le completi potrai ricevere Un botto di ricompense Altro che due Biglietti da visita Emoti con balletti E canzoni Halloween di sottofondo Perché Fortnite sai Che dà la possibilità di mettere la musica Delle canzoncine E avrai quelle horror Ascoltale il 31 ottobre E morirai dalla paura Ok, non funziona Ma ho individuato un nemico L'altra ricompensa gratis Comunque lo tieni scrivendo Nella lobby Aspetta, fammelo killare Vabbè, fra Io ti ho killato Per forza Vai nel sussurro E scrivi ad un tuo amico Fortnite Mers 2022 Trattino basso Get now Due punti Free Halloween skin E fidati di me Che sarai super contento Oh cavoli Oh cavoli Mamma Mamma Vabbè Mi ha ucciso veramente Non ci credo Non ci credo Oh Sì Sono veramente fortissimo Ma io sento dei rumori in giro Per la mappa Mi sa che questo è hit Ah intanto hanno messo le ragnatelle Come possiamo vedere E in teoria dovremmo trovare pure delle zucche Inoltre il 31 ottobre Metteranno al centro mappa Un'isola piena di mostri E all'interno dell'isola Ci sarà anche il Big Boss Che sarà un mostro gigante E se lo uccidi Potrai ottenere Un botto di punti esperienza Però questo Solamente il 31 ottobre Comunque io voglio partecipare Al party eh Si festeggia Boom Preso No in realtà Penso di non averlo preso Mai nella vita Infatti Stiamo fightando Io uso il codice GIO Trattino X97 Tu quale codice usi Eh codice Gallina Gallina 92 Bello boom Vabbè fra ora Eeeh Cioè Vuoi competere con quelli che usano il mio codice creatore Tu fai un po' ridere Anche tu Veramente Cioè Io sono GIO X97 E chi utilizza Il codice GIO Trattino X97 E fa il provino per il team Quindi Fammi sapere qui sotto nei commenti Scrivimi GIO Io utilizzo il tuo codice E mangiare la ricotta Si salve signor pomodoro Vorrei farle una domanda Ma lei ancora non si è abbonato A GIO X97 Lo sa che se si abbono Avrà tantissimi Vantaggi e privilegi Come Finire nei miei video Ricevere tantissimi regali Skin Pass battaglia Stumble coin Su Stumble guys Gemme Anche tu Abbonati ora Però ammettilo Quanto è figo Giocare l'aggiornamento di Halloween Con la ghoul trooper E la zucca Nelle tue spalle Fammi sapere qui sotto nei commenti Se anche tu Hai delle skin halloweenesche Io ho Lo school trooper La ghoul trooper E poi Fammi pensare Ah si Ho anche il bundle di Batman Che è uscito Ad ottobre del 2019 Una mini collaborazione Per Halloween Infatti la mappa era tutta invasata Da pipistrelli E l'oscurità regnava Wishing to the snow In a one or so face Oh guardate L'ho trovato Il pollo zombie L'avete visto Dai Era un pollo oscuro No io Ma perché sto giocando ad un gioco Dove i polli diventano zombie E diventano fantasmi Non lo so Io non lo so Mi chiedo che cosa ne faccio Nella mia vita Ma non ho trovato una risposta Beh Sì Nella vita Bisogna giocare Ed utilizzare il codice Gio Trattino X 97 Ma attenzione Perché qui C'è un party Amici miei Ho sentito degli spari Nel mentre ti dico Un'altra ricompensa gratis Aspetta Il 23 ottobre E beh Ci sarà Una ricompensa gratis Per tutti i giocatori Di Fortnite Occhio Ma com'è possibile Che sto shottando tutti Non riesco a darmi Una spiegazione logica Non lo so Non lo so proprio No vabbè Non ci credo Cioè non è possibile Che uccido tutti Con un colpo Raga Siamo a 6 kill E siamo 11 giocatori Totali rimasti Guardate ancora Il polletto Ciao amico mio Boom Preso Oh Killato Sì Con lancia zucche E c'è anche la versione leggendaria No non ci credo Non ci credo Vabbè la cosa È l'arma più forte del gioco Sicuramente Una zucca leggendaria Spacca tutto No vabbè Non è possibile Fra Che non sei morto Cioè Va bene Va Va bene Morto Ciao bro È stato Un piacere Io non prendo neanche lo shieldone Perché non mi serve Cioè rimaniamo in 3 player E io sono sicuro Che la winno Anche con uno di vita Rimaniamo 1v1 E l'altro è lì raga Proviamo a killarlo col bazooka E ve lo dico È una partita all'ultimo sangue Sì No vabbè Non ha preso tanto Buonanotte Oh sì Let's go Bellissima Bravo 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 E l'altro è 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 Grazie a tutti.